buongiorno a tutti e benvenuti a questa video analisi settimanale cominciamo subito come d'abitudine con l'eurodollaro che ieri dopo le parole di powell nel simposi jason hall ha continuato un pochino nell'apprezzamento è praticamente arrivato alla resistenza precedente quella posta in area direi pressoché 1,18 c'è però 1,19 che è il vero livello spartiacque che è l'area insomma che si staglia qui sopra che fa davvero da fortissima resistenza nel caso invece si dovesse tornare al ribasso 1,17 l'area del supporto precedente rimane intanto e poi 1,16 come si può facilmente vedere qui ma diciamo così passiamo ora alle commodities dove possiamo vedere il petrolio che è tornato alla grande sopra i 66 dollari barile che erano quel livello che una volta violato poteva lasciare spazio anche a una discesa più approfondita invece sul primo livello di supporto intorno all'area 62 c'è stata subito una reazione che è tornata proprio qui ad avere a che fare con la precedente resistenza praticamente in area 69 dollari e poi vedremo se si continuerà nel trading range 66-76 quello che vediamo in fondo andare avanti qui oppure se il greggio ci vorrà far vedere qualcosa di differente chi si è mosso ieri invece su jackson hall sulla base di quello che è stato detto jackson hall è stato è stato loro perché perché sganciare diciamo così come ha fatto paolo ovviamente l'andamento la dinamica dei tassi di interesse da quella del tapering significa tecnicamente un pochino magari procrastinare in là l'aumento dei tassi l'ora questo è sensibile ovviamente e quindi ieri si è apprezzato portandosi molto vicino a quell'area dei 1830 circa 830 135 dollari l'oncia che secondo me è la vera e propria resistenza nel breve periodo quindi staremo a vedere come si comporterà l'oro nel breve periodo passiamo ora agli indici di borsa proprio per via delle parole molto rassicuranti per i mercati da parte di power che in fondo ha comprato ulteriormente tempo abbiamo visto come sull'S&P 500 si sia andati a fare un nuovo massimo storico e che massimo perché siamo sopra i 4.500 punti ma forse ancora meglio visto che procrastinarità si fa bene soprattutto alle società del settore grow di cui è permeato il nasdaq ecco qui il nasdaq che dopo il recente breakout si avvia diciamo così a un nuovo massimo storico oramai nei pressi dei 15.500 punti abbiamo poco fa diciamo così celebrato il superamento dei 15.000 e ora siamo già quasi a 15.500 punti lo vediamo qua cosa succede in europa beh l'europa non ha potuto approfittare appieno del movimento americano perché la chiusura più è venuta prima però come si vede c'è stato un po di reazione sul dax che in ogni caso non riesce ancora a portarsi sopra i 16.000 punti che sono il massimo intraday fatto vedere il 13 agosto e non più raggiunto e poi sull'euro stock che invece si stacca un po da quel livello dei 4.100 4.120 che a mio parere continua a rimanere l'area di supporto più importante che noi possiamo vedere diciamo nel breve termine quindi vediamo se riuscirà a riportarsi sul massimo precedente rimanendo invece sul nostro mercato cioè sulla borsa italiana andiamo a vedere il fib che praticamente è ritornato a 26.000 punti e lì si è fermato in una settimana tutto sommato poco mossa vedremo la prossima vedremo con la quale sarà la piena relazione dei mercati con la relativa maturazione che può andare in onda anche rispetto diciamo così alle parole appunto di jackson allora ho detto già no che probabilmente tornerà magari un momento buono per i titoli grow credo anche che potrebbe esserci un po' più a america diciamo nelle prossime situazioni quindi una volta tanto partiamo prima dai titoli americani e ne faccio vedere alcuni che mi piacciono primo è google lo vedete ha fatto un bel movimento rialzista breakout era già arrivato qualche giorno fa però adesso qui c'è l'ulteriore conferma con anche l'aumento dei volumi lo vediamo qua quindi secondo me momento interessante per google che potrebbe essere davvero interessante anche oracle guarderò qui è un titolo che mi piace perché invece ha potenziale per andare chissà magari a fare un breakout vedremo nelle prossime sedute se sarà in grado di portarsi sopra quell'area dei 91 dollari per azione che potrebbe significare movimento interessante andiamo a vedere rimanendo nel settore dei software vi mostro invece il grafico di un titolo che si chiama calx lo vediamo qua e che a me piace molto perché è proprio in prossimità di un importante breakout dopo una congestione con formazione della figura che voi sapete a me piace parecchio che quella del triangolo che è in essere da un bel po di tempo questa è la trend line su cui si arrampica praticamente nel corso di tutto questo 2021 quest'area insomma è quella che si offre come resistenza quindi io penso che una chiusura diciamo quando vedremo questo titolo su un prezzo intorno ai 49 dollari potremo capire con una chiusura intorno a quei valori ecco potremmo capire che il breakout è in essere e che quindi la situazione si fa interessante passiamo invece ai titoli italiani dove se stiamo a dare retta al contesto alla situazione americana non possiamo che scegliere stm come titolo migliore diciamo del momento perché perché fa parte di un settore che potrebbe funzionare diciamo che questo è un momento importante e il breakout prima di questo livello soglia dei 36 e poi di nuovo di quest'area secondo me dà al titolo un appeal che potrebbe rivelarsi molto interessante guardate come è bello il movimento e la candela che ha fatto nell'ultima seduta stm rimaniamo sempre dell'idea che sia ci sia stato un ribasso che ha riguardato le utilities in particolare nelle ultime sedute proprio in ragione del timore di un arrivo di tassi di interesse interessanti allora vediamo che chissà magari questi sono titoli che su cui potrebbe starci un rimbalzo visto che appunto le parole di power hanno un pochino spostato in la questa situazione quindi questi sono titoli da monitorare nel senso che bisogna vedere se hanno una reazione e possono essere interessanti quali sono però gli altri titoli forti del listino direi tra tutti si staglia interpump lo vediamo qua è un grafico che non ha bisogno di commenti continua a salire e ne ha ben d'onde c'è banca generale segnalata tante volte per via di quel maxi dividendo che arriverà insomma dividendo molto importante eccola qui generali che va a farsi la chiusura più alta e quindi per carità come dire ci si potrebbe anche attendere che debba superare questo massimo relativo ma secondo me già qui il segnale dato è molto buono e poi non bisogna dimenticare che ci sono due titoli del settore farmaceutico che stanno facendo bene uno è di assore che non solo si è portata nei pressi dei 190 euro operazioni ma è andata a farsi una chiusura superiore a quel livello di resistenza che l'aveva diciamo così in qualche modo contenuta nella prima parte dell'anno quindi movimento molto interessante del titolo che si muove a rialzo sulla falsa riga segnaliamo anche ricordati che lo vediamo qui è vero che nelle ultime sedute non aveva fatto bene però il movimento della seduta di venerdì sa di un movimento che magari può lasciare poi dar seguito a un ulteriore fase di rimbalzo che potrebbe rivelarsi ulteriormente interessante quindi momento un po particolare sul mercato non ci sono azioni che sono di per sé particolarmente convincente a parte quelle che sono in quel trend già bellissimo che abbiamo visto segnalo con potenziale per fare un breakout anche buzzi unicev che non è sui massimi però come vedete sta continuando a bazzicare intorno a quest'area e qui si starei attento proprio anche ai massimi intraday che hanno respinto il titolo quindi sarebbe carino vedere il titolo sopra l'area 22 e 85 insomma ne abbiamo viste un po per ogni la prossima sarà una settimana decisiva con i dati dei payrolls che faranno un po da effetto risucchio perché oramai con la fed che si è dichiarata in fondo molto attenta al monitoraggio dei dati risulteranno molto importanti sia quelli sull'occupazione payrolls appunto la disoccupazione di venerdì sia quelli poi che verranno in seguito dell'inflazione quindi una buona settimana a tutti grazie ciao e alla prossima ciao ciao ciao